Mia cara ditta di disboscamento. Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la via Libertà e il boschetto dietro al Bennett, ma ora abbiamo un nuovo lavoro da portare a termine. Quello che vedete raffigurato dietro di me è il grafico dei giardinetti di Bellinzago Novarese, il cuore del paese, in giallo possiamo notare la presenza di bambini, adolescenti ed anziani in continuo aumento. Il mio desiderio è quello di far costruire una nuova palestra escludendo la ristrutturazione di quelle già esistenti. Le operazioni partiranno abbattendo le splendide alberature del parco, dove si sono intrattenute per lo più generazioni di bambini e ragazzi dopo la scuola, lasciando un segno indelebile nei loro ricordi di infanzia, per costruire un cubo, per il costo complessivo di 1.300.000 euro con 850.000 di mutuo a carico dei cittadini. E ricordate bene quello che ha detto Mattia, io sono Attila del Conti, dove passo io non cresce più. L'erba. Facciamoli diventare blu dalla paura. Per la mia palestra. Facciamoli diventare blu dalla paura. Facciamoli diventare blu dalla paura.